Eccoci, bentornati a una puntata di SOS Genitori. Oggi parliamo di videogiochi. Io sono Marco Catania, psicologo, e questa è Tecnica della Scuola. Dunque, videogiochi fanno bene o fanno male? È una domanda che viene fatta spesso, è arrivata tramite i canali di tecnica, mi sono sentito fare tante volte in studio privato parlando con dei genitori, e ciclicamente la tematica videogiochi torna alla ribalta, torna ad essere un elemento di interesse, o a livello mediatico, o come in momenti del genere, perché notiamo che i ragazzi stanno molto più tempo del solito davanti allo schermo, davanti al computer, davanti ai videogiochi. Ora, per quanto riguarda il problema dello schermo, ovviamente non è strettamente legato al videogioco, quella è una problematica legata al tempo che si trascorre davanti allo schermo. Ma perché questa tematica oggi torna ancora più forte? Perché siamo in una fase avanzata del Covid. Molte delle domande iniziali su come reagire ad alcune cose sono ormai superate, ci stiamo riadattando a una nuova modalità di realtà, a una nuova quotidianità, a delle nuove abitudini e molte delle restrizioni, oramai abbiamo imparato a viverle, a integrarle nel nostro quotidiano, nel nostro ambito sociale, interpersonale. Questo stare molto più tempo a casa, chiaramente, porta a una serie di attività, di svaghi, di hobby, più sedentari. Tra questi sicuramente è incrementato il tempo che i bambini, i ragazzi, i adolescenti o anche gli adulti trascorrono davanti al computer. Tempo che, per la maggior parte dei casi, per i ragazzini, i ragazzi, chiaramente parlano maschile ma intendo anche le ragazzine, si trasforma, vuol dire stare al computer, giocare al computer. Da qui la domanda, ma questi videogiochi fanno bene, fanno male, sono un problema oppure non lo sono? Bene, molto spesso, quando si parla di videogiochi, si attribuisce un elemento negativo al videogioco, soprattutto a quei videogiochi dove l'azione è incentrata sul combattimento, sulla guerra, sullo sparare o sull'uccidere altri personaggi, come se la violenza del videogioco si tramutasse automaticamente nella violenza della persona. Ora, su questo io dirò qualcosa forse un po' più impopolare, ovvero, non c'è questa correlazione. Non possiamo fare un parallelismo, siccome gioca tanto, allora diventa violento. Ci sono infinite altre variabili che entrano in gioco e un collegamento così lineare, così diretto, sarebbe piuttosto superficiale. Uno dei casi che ultimamente ho sentito più spesso è quello di Fortnite, uno dei giochi più di moda in questo periodo tra ragazzi e ragazzini. E una delle lamentelle, leggevo proprio di recente in un articolo, una delle lamentelle che veniva fatta è che in questo gioco il mio figlio, mia figlia, impersonando un personaggio, uccide un altro personaggio e festeggia davanti a questa vittoria. è una cosa oscena, è un qualcosa che non va bene. Il ragazzo, il giocatore, sa perfettamente che non sta uccidendo qualcuno, sta sconfiggendo in un'attività competitiva l'avversario, che spesso è un amico o un conoscente reale o online. che è un po' come quando nel gioco simbolico i bambini giocano con le spade, spade finte ovviamente, si trafiggono a vicenda oppure sconfiggono un drago. Non è un atto di violenza, è un atto simbolico. Pertanto vorrei spezzare una lancia a favore dei videogiochi, senza però volerli difendere. Vorrei in questo video quindi parlare di alcune buone norme, di alcune regole per collegarsi al videogioco, per gestire il videogioco o per gestire i miei figli in relazione al videogioco. Forse non tutti lo sanno, ma ogni videogioco ha una valutazione PEGI. Questo PEGI o PEGI, PEGI 12, 14, 18, 16 e così via, indica la fascia d'età alla quale è suggerito il gioco, alla quale si rivolge il gioco. Un po' come i bollini nei film, vi ricordate il bollino verde, il bollino arancione, il bollino rosso, film per la famiglia, film da vedere accompagnati dai genitori o film per adulti perché ha contenuti sessuali o violenti o difficili da digerire per un bambino. Il PEGI è la stessa cosa per i videogiochi. Un gioco come Fortnite, per fare un esempio, ha un PEGI 12. Vuol dire che, dato che i contenuti non sono particolarmente violenti, si rivolge a un pubblico adolescenziale, preadolescenziale, in poi. Non a bambini di 6, 7, 8 anni. Non è pensato per loro quel gioco. Quindi, se noto che mio figlio è piccolo, di 8 anni, 9 anni, gioca a Fortnite, a me non piace, beh, sta usufruendo di un contenuto che effettivamente non è pensato per la sua fascia d'età. È un po' come accade con i bollini, spetta, i bollini dei film intendo, spetta a me, genitore, decidere se quel contenuto è adatto a lui o meno. Il PEGI è un suggerimento, ovviamente. Se mio figlio ha 10 anni, io posso decidere di farlo giocare con un PEGI 12, pensando che è abbastanza maturo per poter elaborare quei contenuti, oppure posso decidere di non far giocare mio figlio 14enne con un gioco PEGI 12, perché credo che non sia il caso, non sia abbastanza maturo per quei contenuti. Così come posso scegliere di vedere insieme a mio figlio un horror bollino rosso, pensando che sia in grado di gestirlo, oppure no. Quindi, primo elemento, prima suggerimento, prima regola per una buona relazione col videogioco è quello di scegliere i videogiochi per mio figlio in base all'etichetta del videogioco, rispetto a questo PEGI. Il secondo elemento che suggerisco è quello di conoscere qualcosa. Molto spesso, infatti, soprattutto quando si parla di videogiochi o di giochi in generale, si tende a cavalcare un po' l'onda della moda, della media, di quello che viene detto, quindi si cavalca l'onda della demonizzazione del videogioco o di un altro hobby, di un'altra attività. Una volta ero lo skateboard e viene demonizzato. Quello che invece vorrei suggerire moltissimo, soprattutto in questo periodo in cui si è molto tempo in casa, è quello di conoscere. Mio figlio vuole giocare a Fortnite, ok, documentati su Fortnite, cerca di capire come funziona, qual è il mondo che c'è dietro e perché scoprirai probabilmente che nessuno gioca a Fortnite per uccidere gli altri, ma perché c'è una personalizzazione del giocatore, perché è un ambiente dove trovo tantissimi ai coetani, se ho 14-15 anni, e posso fare qualcosa che mi accomuna agli altri in un contesto storico dove la vicinanza è molto ridotta. piccola parentesi, nomino Fortnite solo perché è uno dei più famosi, ma questo discorso chiaramente vale per tutti, non è un discorso specifico. Terzo elemento, e che è reputo il più importante di questa lista, è quello delle regole. Perché il problema in sé non è se mio figlio gioca o non gioca, videogioca o non videogioca. Oramai da quando esistono i computer e le console, i videogiochi sono un po' in tutte le case. Quello che sicuramente può essere problematico è il monte ore che mio figlio trascorre davanti a un videogioco, davanti a uno schermo in generale, perché sappiamo bene che l'esposizione prolungata allo schermo fa male alla vista, che lo stare seduti troppo tempo ha diverse ripercussioni sul metabolismo, sull'organismo in generale. Quindi le attive abitudini collegate al gioco, allo schermo o alla tv devono essere chiaramente modellate, delineate, regolarizzate dal genitore o dai genitori che devono dare delle regole in casa che siano condivise. Molto spesso, dicevo, il problema è quello del tempo che viene trascorso. Un possibile suggerimento è quello di scandire delle possibilità temporali, perché venendo conto è chiaro che stando in casa il tempo che viene trascorso allo schermo è maggiore rispetto a quando il bambino o il ragazzo poteva uscire serenamente con gli amici o in bici o andare al parco o quello che sia. Modulare il tempo che viene trascorso al computer o allo schermo in generale, potrebbe essere anche la televisione, è una cosa assolutamente funzionale. Ad esempio, trascorri 4 ore allo schermo tante, non farle consecutivamente. fai un'ora, si fa una pausa, più avanti si può fare un'altra ora e già diventa qualcosa di più gestibile. E in quelle pause potreste fare una serie di attività insieme, tipo alcune di quelle che sono state consigliate già in altre puntate di OSS ai genitori, quindi ti suggerisco di andarle a vedere. E un altro elemento che vorrei sottolineare è anche l'importanza dell'aspetto di come il genitore è coerente con le regole che dà. Difficilmente mio figlio riuscirà a rispettare una regola del tipo un'ora massimo davanti allo schermo se mentre gli do questa regola sono sul divano che guardo la tv da tre ore. È chiaro, non voglio instillare un discorso del tipo il genitore deve fare quello che deve fare anche il figlio, ma un minimo di coerenza nella regola che do, perché se do la regola dell'ora al computer lo do perché fa male, perché devi prevenire alcune problematiche e poi io sto tre ore alla tv chiaramente stonare è più facile che abbia una ribellione da parte del figlio e della figlia nei confronti di quella regola ovviamente. Detto questo il punto poi il punto focale come nella stragrande maggioranza dei casi è quello che è in medio stat virtus quindi riuscire a trovare un buon equilibrio tra degli strumenti perché il videogioco così come altre attività sono strumenti ludici certe volte anche creativi certe volte anche opere d'arte certe volte anche spazzatura come tutte le opere e va trovato un equilibrio nell'utilizzo fare le discorsi ragionare per sentito dire o per demonizzare dei prodotti o delle abitudini non è mai funzionale trascorrere un po' di tempo il videogioco può essere anche molto utile molto creativo dipende dal videogioco trascorrere troppo tempo davanti al videogioco sicuramente non è qualcosa che fa bene al bambino o nello sviluppo del ragazzo così come trascorrere 6 ore 4 ore alla tv non fa bene a un adulto per mille mila motivi quindi io mi rendo conto che questo video non può essere sufficiente per andare a esplorare tutti i dettagli relativi al videogioco alla relazione tra il bambino e la console il videogame eccetera quindi se hai degli spunti di riflessione se c'è qualche argomento che vorresti che venga approfondito maggiormente magari scrivilo nei commenti così sarà un buono spunto per i prossimi video e se qualcosa di quello che ho detto non ti è chiara o non sei d'accordo commenta liberamente io cercherò di rispondere in tempi brevi ai tuoi commenti ok detto questo se credi che il contenuto di questo video sia interessante ti invito a condividerlo in modo che altri genitori possano vederlo a mettere un bel mi piace se ti è piaciuto e a cliccare sulla campanellina così da rimanere aggiornato sui video che usciranno per tecnica della scuola e ti saluto ricordandoti che venerdì prossimo uscirà un nuovo video di SOS Genitori ciao e alla prossima ciao 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 ciao